Sarà il derby dell'onore quello di domenica tra Paganese e Salernitana. Solo quello c'è in palio per gli azzurro stellati, reduci dalla stagione peggiore della propria storia carcistica, ma anche per i Granata, che nei play-off ci sono entrati aritmeticamente con il pari dello scorso turno con il Perugia. Certo, alla Salernitana potrebbe servire un successo per finire al settimo posto, oppure, sembrerà assurdo, potrebbe servire la sconfitta. Sì, avete capito bene, e questo perché Gregucci e Compani intendono assolutamente evitare il Lecce, la formazione cui nessuno vuole far visita nei quarti di finale degli spareggi. Il calendario parla chiaro, ma quella di domenica sarà una giornata di campionato con calcolatrici e telefonini alla mano, perché in base ai risultati del campo si decideranno i vari confronti. Le uniche partite che si giocheranno senza calcoli sono quelle di Perugia e l'Aquila, con i Grifoni, che affronteranno il Frosinone, e gli Abruzzesi, che ospiteranno il Catanzaro. In palio, la promozione diretta in B e il quarto posto assoluto. Tornando al derby di Pagani, il sodalizio del presidente Trapani ha deciso di abbassare a 5 euro il costo del biglietto per tutti i settori, invitando il pubblico a non mancare almeno a questa gara di commiato. A quanto pare saranno un centinaio i sostenitori, con tessera del tifoso, che giungeranno da Salerno, a dirigere la sfida il signor Caso di Verona. Poco da dire sul fronte nocerina e cavese. I supporters rossoneri sono sempre in attesa che giungano notizie dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Il Consiglio federale, infatti, non ha ancora deciso a quale categoria assegnare la società molossa. La proprietà citarella, in particolare il suo amministratore delegato canale, debbono decidere se continuare oppure cedere. Si muoveranno in un senso o nell'altro solo dopo aver saputo la destinazione. Intanto nessuna nuova sulle altre ipotesi di novità nocerina. Per la cavese c'è qualche spiraggio di cessione della società. Bisognerà capire quanto vuole l'uscente manna per lasciare e se chi ha intenzione di subentrare voglia sborsare la cifra che il presidente dimissionario chiederà.